non è che sono i luoghi non andando ma se ti metti due con trago io ho più sui e ti metti una il luogo è che è molto più duro E' un po' di più. il super numero che sono l'uomo la vita si aiuta la vela allora i vengono la vita si aiuta la vita si aiuta la vita e quindi veniva a fare